Vieni con la bambina qua, la bella Claudia, vedi che è illimitato, vedi la mia mamma qua, non può andare di più, dai vieni qui, dai, no, ciao Angelo, vieni facciamo un po' così, non ti va? Che cosa? Tipo foto, video, così, video qui, dai, è l'amicizia che abbiamo forse, perché sta prendendo lui, dai, mamma mia, mi sembra un sorcio, non vuole papà, lascia aperte papà, con lo cassetto lo devo dire, non arrabbiarti, io non ho pensato per me, dai, ciao, e vuoi che ti prenda pure te? no, 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 va bene, lascio, sì, grazie, ciao, così